numero 5 sedia in stile nordico realizzata in materiale pipì di alta qualità resistente e durevole ideale per ogni stanza della casa ha una capacità di carico di 125 kg design ergonomico e moderno progettato con protezione antiscivolo e antigraffio per proteggere il pavimento offre una seduta molto confortevole disponibile nei colori nero e grigio il set è composto da quattro sedie trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 4 set di due sedie in polipropilene di buona qualità design ergonomico grazie alla plastica elastica lo schienale si adatta alla forma del corpo garantendo lo schienale un elevato comfort di seduta le gambe sono realizzate in metallo lucido e spessito molto stabili questo set è disponibile in colori diversi e può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno quando non è in uso può essere impilata per risparmiare spazio facile da montare grazie alle istruzioni dettagliate se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 3 set di quattro sedie con struttura rinforzata in polipropilene in fibra di vetro resistente al sole e alle intemperie le sedie sono impilabili ideali per uso interno ed esterno si tratta di un prodotto certificato realizzato con materiali di qualità disponibili in diversi colori acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 2 set di due sedie realizzate in plastica di alta qualità ideali per la casa ma anche per locali sale d'attesa o uffici grazie al suo design moderno la sedia apporta originalità ad ogni ambiente le gambe sono realizzate in metallo color faggio facili da pulire la seduta è confortevole ottimo rapporto qualità prezzo in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 1 set di due sedie in policarbonato perfette in qualunque tipo di ambiente caratterizzate da un design fresco e contemporaneo disponibili nel colore fumè trasparente ideali per uso interno ed esterno queste sedie sono impilabili ottima qualità se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione